salve a tutti paolo angelucci fisico computer come al solito adesso in questo video andremo a esplorare le molteplici capacità di questa apparecchiatura metodica per metodica potrete sicuramente apprezzare l'estrema semplicità di funzionamento che consente di utilizzarlo anche nei grandi studi in maniera tale che le apparecchiature possano essere tutte allo stesso livello di apprendimento col tasto on si accende l'apparecchiatura l'apparecchiatura al momento dell'accessione effettua una serie di test e di calibrazione di tutti gli apparecchi all'interno ed appare questa schermata dove sono visibili i due canali dell'elettroterapia e dopo di che non c'è nessun'altra terapia attivata nel canale 1 attualmente siamo sul programma 69 andando sul tasto elettro 1 viene visualizzato il programma preimpostato in questo caso stiamo parlando della cellulite delle gambe il tutto può essere ovviamente modificato in qualunque momento semplicemente con le frecce che si hanno qua e quindi si può scegliere un programma diverso che va confermato con ok quindi in questo momento lo passiamo sulla cellulite dell'addome e adesso il programma è per la cellulite dell'addome stesso discorso per il secondo canale ma con il tasto elettro 2 questi tasti consentono anche di modificare tutte le caratteristiche della programmazione ma a volte non è necessario perché di tutte le programmazioni le prime 10 sono libere cioè possono essere programmate liberamente dall'operatore e memorizzate una volta per tutte fatto questo è tutto pronto per dare lo start e partire per l'erogazione è da notare importantissimo che ci sono oltre 80 operazioni e trattamenti pre programmati e quando si sceglie una programma della parte pulsata o della parte ionoforesi automaticamente viene attivata o l'una o l'altra uscita andiamo adesso a vedere come utilizzare le altre medotiche che vengono selezionate con i tasti delle frecce su e giù in questa modalità non c'è nessuna attivazione questa la modalità invece della magnetoterapia per poter scegliere la metodica pre programmata ecco qua abbiamo qui il tasto ok e con le solite frecce su e giù possiamo andare a scegliere per quanto riguarda la magnetoterapia ci sono 31 funzioni già pre impostate le accettiamo accettiamo questa qui e a questo punto la magneto è pronta con lo start parte il trattamento andiamo adesso a vedere la laser terapia anche qui stesso discorso andiamo a fare tutte le attività pre programmate la laser terapia a 50 49 per la precisione funzioni pre programmate andiamo qui a settarla anche in questo caso solidi tasti start e stop e il trattamento puliziale ultima metodica l'ultrasuono ok abbiamo qui in tutto 42 metodiche selezione start e stop come vedete l'apparecchio è di una semplicità unica l'utilizzo viene appreso veramente in pochissimi minuti la cosa interessantissima come vi ho detto è che parliamo di oltre 200 metodiche sperimentate studiate nel tempo migliorate nel corso degli anni che fanno di questo apparecchio un entità quasi insostituibile per tutti quegli studi e quei professionisti che vogliono minimizzare l'incombro il tempo e anche la possibilità di fare più trattamenti contemporanei per qualunque informazione e chiarimento contattateci grazie a tutti